Finite le rispettive nazionali, ci rituffiamo sulla Champions, che si disputerà martedì 4 ottobre, ore 21, con le rispettive squadre. Bayer-Bixen, Marsiglia-Sporti-Lisbona, Ajax-Napoli, Brusch-Atletico-Madrid, Porto-Leverkusen, Francoforte-Tottenham, Inter-Barcellona, Liverpool-Rangers. Mercoledì, Lipson, Celtic, Salzburgo, Zagabria, Benfica, Paris Saint-Germain, Chelsea, Milan, Juventus, Magabie, Manchester City, Copenhagen, Real Madrid, Schartan Donetsk, Sevilla, Dortmund. Buon calcio a tutti, divertitevi e buone scommesse. Ciao!